Se da un lato i cittadini di Agropoli manifestano il loro disappunto sulle scelte politiche che hanno portato la chiusura del pronto soccorso agropolese, sottolineando di non credere più alle promesse che troppe volte sono state fatte e mai mantenute, dall'altro c'è l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola che rassicura ed è fiducioso sul destino dell'ospedale civile. Il nosocomio agropolese rientrerà nella rete dell'emergenza urgenza, dichiarato il primo cittadino durante la trasmissione televisiva realizzata dalla nostra emittente. Secondo Coppola, quello che oggi blocca la riattivazione H24 del pronto soccorso medico chirurgico è l'assenza di medici e personale. Le cose importanti sono le delibere di assunzione del personale. C'è una delibera per 1.200.000 euro in termini di servizi che autorizza lo scorrimento di una granatoria per 15 rianimatori. Questa è una bellissima notizia perché noi servono per coprire il turno H24 3-4 rianimatori e se ne arrivassero già due o tre sull'ospedale di Vallo, quindi Vallo-Agropoli, noi grazie anche ai rianimatori presenti a Vallo penso che riusciamo a coprire il turno H24 ad Agropoli. Questo mi fa enormemente piacere. So che ci sono mosse anche le gradatorie per quel che riguarda i radiologi. So che il laboratorio analisi ormai è pronto a partire H24, quindi se mettiamo insieme, e giusto un po' in ritardo è l'acquisizione dei cardiologi, ma se mettiamo insieme queste notizie e ci riflettiamo un attimo abbiamo fatto lo staff che ci serve per avere un pronto soccorso medico H24. Noi cosa abbiamo da avere da qui a poco? abbiamo da avere che se qualcuno si sente male, che se qualcuno gli viene l'infarto, viene portato ad Agropoli e lì il rianimatore lo tiene in vita. Primo passo fondamentale perché il tempo che ci vorrà da Agropoli per arrivare a Vallo è un tempo prezioso che noi non ci possiamo giocare. Quindi se io ho uno staffo medico H24 che quando arriva il paziente me lo stabilizza, io intanto gli ho salvato la vita. Quindi lei con questo che sta dicendo vuol far capire che Agropoli rientrerà anche nella rete dell'emergenza urgenza, perché è solo così che l'ambulanza arriva all'ospedale di Agropoli, altrimenti noi cittadini ci dobbiamo regare all'ospedale da soli, senza ambulanza, e poi lì ovviamente si svilupperà tutto l'iter. In questo caso... Per dare questo primo soccorso. Dice, ma tu stai parlando pure di sale operatori? Sì, perché le sale operatori, che queste due sale operazioni che saranno montate, saranno utilizzate da Vallo in questa fase iniziale per interventi diciamo in week surgery, cioè interventi che necessitano di una degenza di pochi giorni, piccoli interventi. Dici, ma che ti serve questo fatto che fai? Perché innanzitutto in queste sale operatori noi avremo due posti di una sorta di rianimazione, quindi tipo rianimazione, due posti che saranno utilissimi proprio nel caso, diciamo, dell'emergenza, se arriva all'emergenza del pro soccorso medico, avremo questi due posti collegati alle sale operatori di rianimazione, non proprio di rianimazione, diciamo, il termine tecnico è la verità, mi sfugge, non me lo ricordo, quindi di questo posso essere rianimizzato, però è una sorta di rianimazione, due posti letto di sorta di rianimazione. E potremmo cominciare a utilizzare la sale operatoria per i piccoli interventi, dalla cataratta al piccolo intervento che necessita i 4-5 giorni, e questo significa riavviare un meccanismo, perché noi guardiamo non solo nel pre-periodo, ma anche al medio periodo, quindi ci prendiamo il pronto soccorso medico H24 e siamo tranquilli se qualcuno sta male, lo stabilizziamo, intanto cominciamo a far lavorare sale operatorie, diciamo, ma quello è solo per i piccoli interventi, va bene all'inizio, poi piano piano lo mettiamo a lavorare all'ospedale, lo cominciamo a fare crescere, ci aggiungiamo un altro reparto, poi piano piano arriviamo dove dobbiamo arrivare, perché io non immagino di avere tutto curro subito all'ospedale già pronto, io già so che davanti a me avrò un percorso, la battaglia continuerà, dopo che abbiamo ottenuto il pronto soccorso medico H24, dobbiamo continuare, continuare, sarà un percorso continuo. E noi non ci fermeremo, però oggi abbiamo bisogno del primo step che abbiamo presso da tempo e che ancora non siamo riusciti a ottenere.